Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Garcini. Iniziamo dalla 11 dove c'è un chilometro di coda per lavori tra Pistoia e Montecatini in direzione Pisa. Spostandoci in A1 in direzione Bologna, fino al 28 febbraio tratto chiuso per lavori tra Aglio e Roncobilaccio. Ancora verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio con la variante di Valico-Baccheraia. Sempre in A1, stanotte in orario 22.6 saranno chiusi i tratti tra Roncobilaccio e Piandelvoglio in direzione Bologna e tra Piandelvoglio e Aglio in direzione Roma. Infibili rallentamenti per lavori tra Empoli-Est e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e rallentamenti tra l'allacciamento con la 12 e Livorno-Aurelia in direzione Livorno. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!